E' con imbarazzo che il primo cittadino di Teramo, Gianguido D'Alberto, interviene in occasione del terzo anniversario dal sisma del 2016 che ha cambiato per sempre la vita di migliaia di cittadini del capoluogo e dell'intera provincia. Dopo tre anni, sostiene in una nota il sindaco, il tempo sembra essersi fermato a Teramo, così come nelle zone colpite del centro Italia. La ricostruzione è praticamente bloccata mentre i paesi muoiono. Ad oggi non è possibile fare pronostici su quanto tempo servirà per ricostruire gli alloggi danneggiati e comprensibilmente gli sfollati Teramani, quasi 4.000, sono completamente sfiduciati. Le cifre della non ricostruzione sono inesorabili. Quella pubblica è lentissima, in parte in fase di progettazione, mentre per quella privata sono pochi i casi risolti. Purtroppo dopo tre anni ci troviamo ancora a fare i conti con leggi e burocrazie che ostacolano e rallentano gli interventi, continua Gianguido D'Alberto. Sarebbe stata necessaria una legge speciale ed invece abbiamo un insieme di norme ordinarie. È il fatto che non si è tenuto conto che la ricostruzione non prescinde dalla ricostituzione delle comunità, le quali senza lavoro non esistono. Un grido di allarme fortissimo quello del sindaco Teramano, che ha chiamato a raccolta il tavolo di coordinamento per la ricostruzione, chiedendo a gran voce la presenza di tutti i parlamentari del territorio. La proposta è quella di intervenire con modifiche legislative che finalmente siano realmente in grado di sburocratizzare il percorso della ricostruzione, consentire alle nuove attività imprenditoriali di beneficiare di vantaggi contributivi e detassazione e avere garanzia dei finanziamenti per la ricostruzione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.